di rotta cerca la giocata ad effetto in direzione di Saraga traversone di Saraga Lobosco e la palla esce di un non nulla grande asti in questo inizio di gara con il colpo di testa di Lobosco che sfiora la rete sul pallo alla destra di un portiere che ha una garanzia che risponde al nome di Arden Tulino Amedeo, Belguizzo, tentativo per Loreto Lobosco che cerca di liberarsi di Tulino e chiude in presa bassa più cambio per Zichel evidentemente non soddisfatto della prostazione dei suoi Traversone di Rolando Apertura sull'out di sinistra per Motetta classe 95, punti nonno contro uno gli avversari lisciano un po' tutti, attenzione all'occasione per i Chieri e finisce alta fortunatamente per Lasti la battuta col piede destro di Osella fortunatamente per Lasti non è velocissimo il numero 10 palla allargata sulla corsia di sinistra per Motetta che alleggerisce per San Po forse il tempo per i contropiede è sparito ma occasione per Ingari, battuta rete, chiusura della retroguardia dell'Asti in corsa di Lodi, Traversone, colpo di testa e arriva la rete del vantaggio del Chieri a firmare il gol Ingari Traversone di Lewandowski, colpo di testa di Mariani e palla che finisce sul fondo